Esiste differenza tra i vecchi addestratori e i nuovi addestratori? I cosiddetti dinosauri e new age? Buongiorno a tutti, sono Simone il figurante di Torino e vorrei oggi parlarvi di quelli che io chiamo i dinosauri. Io intendo dinosauro tra conduttore e preparatore o anche entrambi, comunque che si affaccia all'interno della cinofilia da tanti anni, che è nato ufficialmente in un'altra epoca da un punto di vista di addestramento e che quindi ha visto un'altra realtà che nel tempo si è modificata, ha cambiato alcune cose per arrivare fino a oggi. Il dinosauro come lo intendo io, per quanto il termine parte da un qualcosa di divertente, ha però delle retroscena molto importanti perché tendono a avere un ruolo fondamentale, in base in questo caso nelle mie discipline, per quanto riguarda quello che influenzano e chi influenzano soprattutto come. Io intendo come dinosauro, in questo caso preparatore medio, medio nel senso casuale, datato, che ha iniziato a fare i GP negli anni 90, che a oggi non è competitivo, chiede una mano a chi è più competitivo e tendenzialmente criticandolo o comunque non essendo mai completamente in accordo con quello che si fa in questo momento storico, epoca storica, nell'addestramento, perché lui l'ha fatto tanti anni fa in un modo diverso. Ora, a livello logico mi viene quasi da ridere perché se tu chiedi una mano a qualcuno, purtroppo lo devi ascoltare, perché tu l'hai chiesto, nessuno ti ha detto di farlo, quindi almeno provaci ad ascoltare, non dico senza criticare, perché comunque il dialogo è importante e confrontarsi di lui altrettanto, ma almeno se gli dice guarda che adesso quel movimento lì, quel doppio comando lì, perdi più punti, è un problema, tutto quanto, tendono a devalorizzare la cosa, non dargli il giusto peso e poi ovviamente vanno in gara ed è colpa degli altri. Ovviamente questo è più ironico che esattamente si identifica un dinosauro o l'addestratore dei 60 anni in su, non è quello, perché più spesso è la mentalità e da chi è imparato piuttosto che la mera età anagrafica. Però ci sono, sono molto presenti, soprattutto in gb perché è più vecchia, è più radicata e ha più campi, dal mio punto di vista ovviamente, e gioca un ruolo medio forte perché se un cliente, un allievo va da questa persona e impara questo metodo, automaticamente se tutto quello che ho detto succede, sono già fuori competizioni, hanno una canina di 3-4 anni che non sono comunque competitivi, non hanno una scaletta, non hanno un programma, non hanno un percorso, non hanno una proporcionalità degli allenamenti, vanno un pallosbando, fanno la prima gara, non va bene, poi cercano aiuto, cosa saggia, molto saggia, ma parti già da un errore forse grosso e quindi il recupero è tendenzialmente abbastanza lungo, quantomeno non sarà mai perfettissimo, a meno che non trovi veramente la panacea a tutti i magli e di conseguenza va avanti. A me il dinosauro medio piace, fa anche ridere, ma nel senso buono, non perché li voglio prendere in giro, ma perché il loro ruolo è comunque spesso molto carismatico, si impegnano tantissimo, ma è come se avessero nella loro testa un tetto massimo che oltre quello ritornano poi in vecchi schemi e non si evolvono dei magli. Questo dinosauro medio è secondo me il sale della disciplina, nel senso che senza i vecchi non ci sarebbero i nuovi e di conseguenza un passo anche generazionale, anche perché secondo me in questo periodo la distanza tra vecchio e nuovo è molto molto ampia, senza troppi ponti tra il vecchio che ha insegnato e il nuovo che ha voluto apprendere. Quindi benvengono i dinosauri fin tanto che non rompono troppo le scatole. Fatemi sapere cosa pensate in merito a questa considerazione e alla prossima!